Naturalmente noi facciamo corsi di formazione, abbiamo la scuola di alta formazione, affiancamenti e è uno dei nostri responsabili scientifici più importanti. Ringraziandoti di cuore per la tua grande conoscenza, professionalità, invitiamo il dottor Bartolomeo Legrini per presentarci due casi di come ha risolto questo caso importante e poi ci diamo la buonanotte. Fabrizio grazie per la tua passione, conoscenza e supporto, grazie di cuore. Naturalmente non è così complicato, l'S Drive una volta che si è fatto da lui, insomma ci dà una guida, poi naturalmente voi professionisti li utilizzate come meglio credete, come qualsiasi altro tipo di esame, di analisi. Poi la formazione e la pratica fa la differenza. Grazie di cuore ancora. Bartolomeo ci sei? Attiva pure l'audio. Buonasera a tutti, sì, mi senti? Sì, sì. Mi senti? Buonasera, intanto saluto il professor Aloisi che è stato mio maestro di medicina funzionale. Guarda, stasera voglio farvi dire questo caso clinico che è un caso che è dove il mio maestro Aloisi c'entra pure perché alla fine attraverso il bulbo, attraverso il test S-Drive, noi abbiamo una bussola che orienta. Questa bussola che orienta, orienta secondo tanti sistemi e tante componenti. Ha fatto vedere bene il dottor Marrone l'importanza di un aspetto analitico del test del bulbo, un aspetto analitico che va in profondità, va a livello cellulare, quindi abbiamo la possibilità attraverso quelli speciali segnali che le cellule danno, quella musica di cui parlava il professor Spaggiari, di riuscire a integrare una rete di informazioni, un sogno per chi come me da 25 anni fa medicina sistemica e la studia da quasi 30, la pratico da 25. Cioè avere a disposizione una sorta di orchestra e riuscire a poi, anche rispetto agli algoritmi che questo prezioso strumento raccoglie e che poi stabilisce con questo software presente ad Hamburgo, riuscire a capire dove lavorare. E questo che vi voglio presentare stasera è un caso clinico di un ragazzo di 18 anni che aveva fatto da due anni un percorso che molti pazienti nostri fanno, un percorso che l'aveva portato a consultare diversi specialisti, perché questo ragazzo presentava gravi disturbi gastroenterici con una tipologia in omeopatia, si chiama fosforica, un ectodermico. Quindi uno che è un metro e 83 pensava già a 67 kg, era arrivato a 55. Con malassorbimento, problematiche serie e importanti, i genitori hanno valorizzato chiaramente i professionisti gastroenterologi importanti del territorio, ma il massimo che sono riusciti a dare questi gastroenterologi sono stati per questo giovane di 18 anni che quest'anno si apprestava, questo è un esame fatto a ottobre del 2022, si apprestava al suo quinto anno di diploma, ma chiaramente quindi avrebbe avuto bisogno di essere aiutato, i genitori avevano fatto di tutto e di riuscita solamente come problematiche il lattosio. E nonostante l'assenzione dal lattosio e dei cibi contenenti il lattosio, questo giovane aveva continuato a manifestare, diciamo, tanti sintomi, motivo per cui mi hanno chiesto aiuto, i due genitori mi conoscevano già da anni, mi hanno chiesto aiuto. Io, il primo test che ho fatto, ho rilevato questi aspetti, vedete, sistema adrenergico, quindi fondamentalmente, come spiegava il primo dottor Marrone, c'era un'attivazione di tipo, diciamo, surrenalico, che era un tentativo di allarme del sistema che non era stato compreso perché fondamentalmente si era visto solamente l'organo, attraversando anche, attraverso un colonoscopio e un gastroscopio, cioè aveva fatto anche gastroscopia e colonoscopia, quindi era stato visto, era stato anche analizzato, ma non era stata vista tant'altra cosa. Sistema cardiovascolare, che cosa significa? E poi vedremo, produzione di energia, importante, il ragazzo presenta astenia marcata, il ragazzo presenta una cattiva produzione energetica che lo costringe a ridurre le sue normali attività, è un sarcopenico, è un catabolico, è uno che si sta mangiando il suo grasso, è arrivato a una quota di massa grassa, da me, diciamo, misurata con una Bia, perché io faccio la Bia a tutti, era arrivata al 4,7% di grasso. Quindi uno stato di salute, prima parlava dell'importanza dell'acido arachidonico, il dottor Marrone, chiaramente anche in questo caso abbiamo una componente comunque di, diciamo, suotamento, che veniva confermata, se vai avanti Giorgio, nelle pagine successive, vedete anche qui, idratazione cellulare, nelle pagine successive, vai alla pagina del sistema immunitario, doveva essere abbastanza sintetico, perché non abbiamo tanto tempo, guardate il valore più di 90, con un'attivazione soprattutto della parte, accanto a un forte stress ossidativo, e questa è l'importanza del test, cioè il test del bulbo, ci permette di lavorare su più livelli. Noi partiamo già, ha fatto vedere Giorgio prima, l'attività del mitocondrio, importantissima, no? Poi lo stress ossidativo, poi possiamo vedere se c'è una neuroinfiammazione, poi possiamo valutare le attività di fase 1 o 2 del fegato, attraverso, ha fatto vedere prima il dottor Marrone, lo zolfo, no? E tanti altri agenti che agiscono in quelle fasi, se c'è un inceppo del fegato, chiaramente sappiamo l'importanza del fegato nella gestione della salute. Poi è la composizione del microbiota, importante, non è fatto vedere prima il dottor Marrone, l'apostovirosi, che può essere di per sé attivatrice di una infiammazione del GALT, che porta poi a sindomi sistemici, e può portare anche, può essere benissimo connesso con l'alterazione dell'ambiente microbiotico, soprattutto in presenza, come in quel caso precedente, di muffe e batteri. Andare a vedere una disbiosi, ma soprattutto andare a valorizzare, per esempio, una Leaky Gut Syndrome, con dei marcatori importanti. Prima parlava il dottor Marrone del triptofano, e beh, il triptofano, regolatore della serotonina, che è uno dei più importanti mediatori del flusso sanguigno intestinale. Cioè, se abbiamo un buon livello di serotonina intestinale, noi abbiamo un buon livello di neurodigestione, e quello è importante. E per cui, chiaramente, se si inceppa questo, chiaramente, voglio dire, si inceppano una serie di fattori. Attraverso il test del bulbo possiamo valorizzare tanti aspetti. E quindi, vedete qua che cosa ho valorizzato? Valutando i dati, accanto allo stesso sitativo, c'è una segnalazione di 22 di metalli tossici ed elettrosensibilità. E di valore 21, produzione di energia, idratazione cellulare e sistema cardiovascolare. Quindi, l'entità di questo distress di vari sistemi, perché attraverso il, chiaramente, la sintesi, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo con il dottor Marrone, ma non l'abbiamo fatto, sinceramente. Lui ha fatto proprio un'analisi perfetta dei singoli fattori, no? Chiaramente, avendo poco tempo a disposizione, però io devo far comprendere anche l'altro aspetto, cioè l'aspetto anche sintetico, cioè l'aspetto da clinico, da medico, da operatore, cioè da chi ha uno strumento e vuole il bene del prossimo, cioè vuole dare salute. E quindi, in questo caso, io volendo dare salute, mi sono appigliato poi a che cosa? Sono andato a vedere, come diceva prima Giorgio nella sua bellissima presentazione, i fattori epigenetici e sono andato a vedere nell'intestino, Giorgio, gentilmente, vediamo che cosa diceva l'intestino e ci sono metalli tossici. Ci sono metalli tossici, ma se voi andate a pagina tre, non abbiamo il tempo, dove venivano segnati ab inizio, vai Giorgio, vai a pagina tre, non sotto, questo qua, guarda, viene segnalato all'inizio zolfo e selenio, due minerali importantissimi, perché se c'è un metallismo in questo soggetto, che cosa sta succedendo? C'è lo zolfo che viene chelato, cioè viene usato lo zolfo come catalizzatore fisiologico, quindi che cosa va a svuotare lo zolfo? Se io continuo a tenere questo intestino in preda a un metallismo e questo metallismo è probabile che diventi sistemico nel momento in cui c'è l'apparato cardiovascolare come segnalazione, chiaramente voi dovete pensare che c'è un impoverimento di questi minerali che hanno diverse funzioni, lo zolfo fra le altre cose è un importante componente di tante proteine muscolari, allo stesso tempo c'è il selenio e non dimentichiamoci che tra gli aspetti che può valorizzare il test del bulbo c'è anche tutta l'ormonoregolazione funzionale, perché? Perché se noi parliamo di selenio dobbiamo ricordarci che c'è la tiroide e la tiroide in un giovane di 18 anni, soprattutto in un catabolico ipertiroideo, se va in inversione e abbiamo un'inversione neurovegetativa, abbiamo qui praticamente un sistema che rallenta, un sistema che ha anche difficoltà a sintetizzare, perché l'ormone tiroideo a quell'età è importante moltissimo nell'attivare un processo auxologico di sviluppo, di potenziamento e quindi qua avevamo una inespressività dell'ormone tiroideo, peraltro è importante la segnalazione del test, perché il test del bulbo, siccome ci sono delle linee e queste linee non sono casuali, al primo posto se c'è quello vuol dire che le componenti mineraliche e quindi strutturali sono state in qualche maniera depotenziate e quindi diciamo, vedete dopo il silicio, ah cavolo, c'è in un giovane di 18 anni il silicio, cioè il silicio sapete che è un'importante struttura fondamentale nella sintesi di certe proteine importanti nel nostro organismo, soprattutto a livello di strutture osse, ma anche a livello di connettivo dove c'è anche il rame, dove il rame rappresenta un elemento importante per la sintesi di collagene, quindi qua eravamo di fronte a un soggetto che si stava svuotando, peraltro come si stava svuotando? Si è andato a vedere i marcatori che sono segnati dopo, citrullina, arginina, stiamo parlando anche di uno stress nitroossidativo, non solo antiossidante ma anche nitrosattivo, quindi qua c'era un'incapacità anche del recupero biologico di tessuti che erano neuroinfiammati, da che cosa erano neuroinfiammati? Dal metallismo. Io ho agito, e credetemi sui miei figli, con questo giovane, semplicemente con due prodotti, gli ho dato poi il self-food dopo due settimane, due prodotti che hanno permesso a questo giovane di recuperare la salute e quindi uno di questi prodotti agiva sulla creazione dei metalli tossici, l'altro di questi prodotti agiva sulla componente di stress ossidativo, vedete? Superossido di smutasi, acido alfa lipoico, selenio, istidina che comunque è un metabolita dello zolfo, quindi quando il test vi segnala istidina dovete pensare sempre a qualcosa che sta succedendo in un organo importante, che è un organo importante di sintesi, perché in questa pagina stiamo nella pagina dell'intestino e quindi qua siamo di fronte a un fegato che si sta bloccando. Quindi è bastato lavorare con questi aspetti che io l'altro, perché ho portato questo caso? Perché questo giovane io l'ho visto venerdì scorso, l'ho visto venerdì sera con i suoi due genitori e figlio unico che mi hanno detto dottore grazie che me l'ha salvato, io dopo tre mesi gli ho fatto il test, io ora Giorgio non abbiamo molto tempo, però voglio farvi capire dal secondo test che l'ho fatto a fine gennaio, quello era di metà ottobre, come vedete qua che c'era una post virosi, nella segnalazione del giovane c'era che questi episodi di disturbi digestivi erano iniziati subito dopo il vaccino del covid, quindi non è che noi possiamo andare a tornare indietro a togliere il vaccino, però possiamo sicuramente andare sul sistema a riordinarlo, a rimettere ordine e questo è importante perché abbiamo uno strumento unico che permette di lavorare su più livelli che può aiutare anche quelli che sono danneggiati potenzialmente ma anche realmente, vivamente. Questo è il suo secondo test, sono cambiati i cofattori Giorgio, scusa un momento, il valore è sceso da 92 a 55, il sistema immunitario, vedete la pagina, scusa vai sulla pagina successiva Giorgio, quella del sistema immunitario, vedete come si è svuotata questa pagina? Il metallismo è sceso dopo tre mesi da 22 a 15, va bene come valore? Il paziente è clinicamente migliorato ma già dopo due settimane, chiaramente io l'ho fatto supportare anche da un'adeguata dieta, è aumentato di 7 kg di peso, ora lui viene seguito solamente dalla mia nutrizionista, non viene più da me, è venuto l'altra sera solamente per concludere un percorso, anche perché ora dovendo sostenere degli esami di maturità aveva bisogno di un aiuto anche di tipo diciamo di integratori per questa fase, in questo test che cosa è venuto fuori? Vedete, se vai alla pagina 24 dove c'era prima solamente segnalata la posto di virosi, voi quando andate a diciamo togliere la polvere dall'intestino, vedete che cosa succede? Sotto a fine gennaio sono usciti fuori batteri e funghi, quindi ora io da gennaio a aprile per altri tre mesi ho lavorato su questo aspetto, quindi la cosa che vi voglio segnalare che è la straordinarietà di questo test facilmente eseguibile, che permette di far arrivare il risultato in 13 minuti ed è un test di diciamo supporto, non è diagnostico, ma è sicuramente un orientamento e che ci aiuta a capire i diversi livelli di stratificazione della problematica, perché lì c'è una segnalazione di un'alterazione microbiotica su cui dobbiamo lavorare, su cui io ho lavorato e considerate che un giovane di 18 anni non gli possiamo dare 3.000 prodotti, anche perché non seguirebbe le terapie, è difficile, e io con altri due prodotti, uno che lavorava sulla micosi e uno che lavorava sulla batteriosi, ho proceduto a continuare nella riparazione del sistema e il giovanotto ora digerisce tutto, mangia tutto, se ne frega del lattosio, perché comunque gli ho dato anche il lacti gesto per prenderlo prima eventualmente di pasti con lattosio, probabilmente se avessimo scoperto prima che c'era un danno da metalli tossici in questo giovanotto che vive nella mia città, che è una città bellissima, ma un piccolo problema di metalli ce l'abbiamo, come tante città dell'Italia purtroppo, e praticamente, probabilmente avremmo evitato anche di favorire e stratetizzare anche una problematica con l'attosio. E quindi, diciamo, in questo test vi ho voluto far vedere soprattutto l'importanza non solo dell'aspetto sintetico, ma anche dell'aspetto di ripetizione del test, perché diventa fondamentale ripeterlo affinché noi possiamo procedere sulla giusta strada, d'altronde il mio maestro Aloisi, ma ha sempre parlato delle quattro R. La prima R è rimuovere, quindi che cosa ho fatto? Ho rimosso i metalli tossici. La seconda R è rimpiazzare, quindi sono andato a rimpiazzare il succo biliare. Poi riparare, ed è la terza fase che ho fatto con dei prebiotici e dei probiotici, terza e quarta fase. In più ho continuato a ripulire. E quindi, facendo questo semplice meccanismo, questo giovane ha recuperato 8 kg, salute, benessere e soprattutto serenità, che è stata anche affiliata alla serenità familiare. E parliamo di un caso semplice, che io stasera avevo voluto portare, perché so che molti di voi si stanno approcciando a questo meraviglioso test. E io vi invito, come dice il dottor Terziani, a studiare. Facciamo corsi, facciamo presentazioni, facciamo serate come queste. Vedete? Ci prolunghiamo anche in orari, non proprio consoni. Io domani mattina ho un volo alle 8, quindi devo partire. Vabbè, ma comunque al di là di questo sono riuscito a fare questa piccola parte. Comunque ho sintetizzato, perché effettivamente come orario siamo un po' sforati. Comunque rimango a disposizione per eventuali chiamamenti. Penso che siamo veramente, siamo ancora con 96 persone che ci seguono. Quindi sono veramente felice, grato, onorato di avere avuto tutti voi così interessati a questa serata di presentazione. ci sono i nostri collaboratori, Tonio Covello, Paolo Comerio, Nicola Cartura, che sono a vostra disposizione. Avete, volete fare delle domande? Siamo sicuramente a vostra disposizione. e se sono anche chiarimenti. Insomma, anzi, guardate, vi consento anche di attivare il proprio audio, così potete dire la vostra, insomma, dare il vostro parere, se siete rimasti contenti. Vi aspettiamo a Bologna il 9, sicuramente settembre, per il corso veramente importante. Sì, vi potremo far avere anche la registrazione, se avete piacere. Se volete poi fare domande, la mia e-mail l'ho messa in chat, infochiocciolaepinutracer.it e potrei anche poi trasmettere questa informazione, queste domande ai medici. Ricordatevi, abbiamo la scuola di alta formazione che parte a ottobre. e da qui ci sono anche delle promozioni importanti per chi è interessato. Abbiamo il 10 settembre questa meravigliosa giornata dedicata a Sergio Stagnaro, professor Spaggiari a disposizione, Bartolomeo Legrini a disposizione, Fabrizio Marrona a disposizione. Quindi, insomma, speriamo di avervi dato, per il costo, non ne parliamo mai, ai seminari, ai corsi, ci scrivete un'e-mail o ai vostri collaboratori o a noi direttamente. Se non avete contatti con i collaboratori, vi mandiamo un'offerta anche via e-mail attraverso la segreteria amministrativa. Bartolo, cosa dire? Abbiamo fatto anche questa sera qualcosa di straordinario. Ciao Tania, ciao Nicola. Potete attivare i vostri microfoni perché, quindi, se volete salutare, volete dire qualcuno vuol dire la sua, può farlo. Grazie per Giorgio, di cuore, della tua lezione biofisica e quantistica da sempre. Elena, Michele, insomma, Giuseppe, Beppe, grazie, Eugenio, Eugenio Scrauzzo, se vuoi dire la tua. Stasera abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso assieme. È stata una bellissima presentazione. Piano piano, insomma, cerchiamo di metterla sempre al meglio. Mario Rotella, grande Lau, grandissimo, che piacere averti con noi. Antonio, insomma, grazie veramente di cuore a tutti. Se avete domande siamo a vostra disposizione via e-mail. Se volete attivare la vostra audio per salutarci, siamo veramente a disposizione. È un strumento che noi, insomma, con il quale i medici fanno diagnosi, perché sono il medico. Il nutrizionista lo utilizza per ottimizzare il supporto nutrizionale e magari di integrazione. e poi, naturalmente, chi si occupa di salute e benessere lo può utilizzare come strumento di supporto e di consiglio mirato. Abbiamo tantissimi report e tra questi report abbiamo anche quello per la veterinaria, per cani e gatti e cavalli. Pensate, quindi chi si occupa di veterinaria ha uno strumento eccezionale, perché anche per i bambini. Allora, i bambini non parlano, come ci dice da sempre Monica. Monica, che grande! Cosa ci dico? Come dice da sempre Monica? I bambini non parlano. Se vuoi dare il tuo parere, meraviglioso. Guarda, io tante volte con i bambini mi trovo proprio in questa situazione. Quando non sono verbali, prima di avere l'S-Drive, tante volte non sapevo da dove iniziare il bando della matassa. Non avevo idea clinicamente di quello che dovevo fare, chiaramente. Magari c'erano i segni clinici di una parassitosi, però anche di sovrapposizioni batteriche, ma con il test mi ha alleggerita. Questa è la sensazione che ho avuto. Io mi sento leggera, mi sento nella situazione di poter veramente aiutare il bambino con delle priorità. E ogni volta è come se avessi una cipolla e levo il primo velo e poi al prossimo test il secondo velo e così via. Per il congresso che avremo il prossimo venturo a settembre ho preparato delle testimonianze bellissime perché i genitori stessi se ne rendono conto. Perché io stanno vivendo proprio la sfaccatura dell'era, di prima, dell'S-Drive e di adesso. Grazie, grazie Monica. Grazie di cuore perché questa è la nostra passione, che ci accomuna con questo meraviglioso evento che hai fatto ultimamente dei Pans Pandas per aiutare questi bambini. Grazie di avermi invitato. Grazie a te e a Bartolo. Grazie a voi due per essermi stati accanto. Veramente è stato un onore per me. A Guido Marini, insomma tutti i professionisti straordinari. Io penso che, ecco, ci chiedono i metalli pesanti. Beh, uno dei grandi, dei metalli pesanti è Mauro Mario Mariani, che da sempre fa terapia carante e ha aiutato tanti pazienti con metallismo forte, tipo sclerosi multipla, park, insomma l'ha aiutati. La terapia carante può fare molto. Naturalmente ai bambini è un po' più difficile, ma negli adulti la terapia carante, dopo naturalmente tutti i controlli del caso, fa la differenza. S-Drive naturalmente ci dice non togliere solo i metalli pesanti, ma dai questo, fai anche questo. No, cioè, è perché siamo abituati a avere una visione dell'insieme, come dico sempre che avere S-Drive oggi è come il GPS che ti fa vedere dall'altro, no? Direi dove devo andare? Ah, guarda, devo andare là. Ma se tu sei giù, prima di arrivare là ci metti un po' di più. E quindi sai subito dove poter intervenire e penso che per un professionista come voi, medici che da sempre insomma sanno cosa fare, hanno studiato, avere proprio quello di cui hanno bisogno e fare quello che serve al paziente, penso che sia qualcosa di straordinario. Poi ci sono altri migliaia di test, ma penso che in 12 minuti avere queste informazioni non c'è un test che possa essere paragonabile. Giorgio, scusa se mi intrometto perché il test epigenetico S-Drive, prima di arrivare a fare le DTA oppure glutatione endovene e quant'altro, tutte queste tecniche sono comunque invasive, ci permette di capire qual è il sistema endogeno che non promuove la detossificazione. Il ciclo della metilazione, il ciclo dell'acido folico, la produzione di glutatione, c'è un test epigenetico molto importante perché se abbiamo anche un polimorfismo noi possiamo superare il polimorfismo, basta dare degli enzimi, delle vitamine che vanno a bypassare la problematica genetica, quindi appunto l'epigenetica, e noi ci ritroviamo a riattivare un ciclo di metilazione, di detossificazione e anche a livello endogeno. Come diceva il dottor Bartolomeo, se noi forniamo dei precursori importanti a livello endogeno per la produzione di SOV, superossidi smutati, acido alfa lipoico, sulforafano e glutatione, non è che sono molecole che noi abbiamo studiato soli sui libri di scuola, no, sono molecole che vengono dall'alimentazione. Se noi riusciamo a mangiare bene, a integrare, noi riusciamo il mercurio a chelarlo, a detossificarlo, perché noi quando prendiamo un farmaco che fa il nostro corpo? Il nostro corpo trasforma, grazie al glutatione, antiossidante, endogene, il farmaco lo rende idrosolubile e lo elimina. È tutto il nostro figolo che ha questa funzione, perché non dovremmo farlo per i metalli pesanti? Quindi è una missione di insieme dove agire per detossificare. Noi l'abbiamo dimostrato con i self-food, pubblicando dei lavori importanti sul supporto con i self-food gocce, l'ossigenazione, l'estrosimettionina, la same, eccetera, eccetera, quindi possiamo fare molto. Grazie, grazie, grazie Monica, grazie di cuore, grazie, grazie Lau, grazie a tutti, veramente, grazie Eugenio, grazie di essere qua. Il 19 sera facciamo formazione sui casi clinici con Bartormeo Allegrini, per chi ha S-Drive, naturalmente, quindi facciamo formazione per i centri S-Drive. Vi auguro veramente il meglio per voi e le vostre famiglie, grazie di cuore, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao. Grazie, buonanotte. Buonanotte, 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 ciao Paolo. Ciao, ciao Lau. Ciao.